giro pescazione sfidato da sempre per una linea un tipo molto speciale quando non la pesca io questa è la mia parte adesso non giro pesca tutto grazie e questo è il suo tipo speciale il mio tipo speciale è stato con me 12 anni io uscivo da parte in parte ma quando viene in parte mi sono andata prima e dentro Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.